allora buongiorno da italia azul 4 victor kebeck sierra vinco quasi sempre il quasi che mi frega mi trovo al passo del tomarlo e sto percorrendo il sentiero che porta al monte maggiorasca cima sota italia eco romeo 313 è la più alta vetta della della zona della valtaro valceno un po per estensione diciamo 1800 metri di quota sentiero breve ben segnato e molto molto panoramico a confine fra la provincia di parma e più avanti di piacenza e la provincia di genova e saliamo giorno è il posto no vabbè ho finito ieri il salame di cinghiale vorrei mica dire allora dunque praticamente siamo siamo in vetta mancano poche centinaia di metri la morfologia del monte maggiorasca ha un versante quello posto a occidente occidentale il versante occidentale più scosceso ripido gli altri versanti sono più più dolci meno aclivi infatti tutti i sentieri percorrono questi alle mie spalle ho il monte tomarlo il monte penna con di fronte il monte trevine e laggiù quello brullo nudo spianato il monte a iona sono due sono cime sota il monte penna e il monte a iona oggi volevo attivare il monte a iona ma sono partito un po tardi e ho detto beh facciamo il maggiorasca continuiamo il percorso su questi basalti e alle mie spalle la madonna di guadalupe poi magari nella descrizione ho molto youtuber nella descrizione nella descrizione metto il motivo per cui c'è una statua dedicata alla madonna di guadalupe questa è la valcena e la valtar ci sentiamo fra dieci minuti cinque allora sono arrivato seduto sul monte maggiorasca le mucche al pascolo si vede la gli impianti dei ripetitori allora il setup il solito oggi ho portato sullo Zegu l'X6100 l'antenna è classico di polo con il centrale il ballo 1 1 a 1 due bande 40 20 metri sempre con il solito interruttorino un po più di cavo quassiale del solito perché trovare un punto dove ficcare il puntale per sorreggere l'antenna non è facile quindi ho un po più di raggio di azione è un cavo a bassa perdita quindi non dovrebbe dare proprio i problemi in particolar modo in hf e niente montiamo il dipolo con le solite modalità i due picchetti giro la telecamera se non è contro il sole se si vede perfetto storta ma me ne parte la ciolla non c'è di vento Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra portatile qrp 59099 Roger ricevo 099 non faccio il field day però se ti interessa ti passo referenza sota Italia Ecoromeo 313 QSL perfetto grazie buona attività in qrp e grazie per il sota ciao ciao 73 Vittorio il chilo 159 anche te eh accidenti un po' di wattai per schiari il 59 a te il mio nome è Daniele Roger Daniele guarda ho 5 watt un'antenna di polo a 4 o 5 metri da terra in configurazione vuoi invertita e l'apparato è uno Xiegu X6100 se mi ripeti il nominativo scusa che ti metto a log grazie che si è molto bene PQS Italia 4 Firenze Danimarca X3 4 FDX nome Daniele la città fuori 5 8 59 più cosa vuoi di più condizioni che ti metto qui sono boh quanto è 500 watt Alpen è una ProSister PST24 la famosa Cornuta e l'apparato 7851 a te non ci sei affermativo affermativo qui taglia azzurro 4 Vittor Quebec Sierra tocca locca se arrivi il K2 Whisky Zelanda Quebec sono barato 5 in questo momento mi ascolti affermativo Italia chilo 2 Whisky Zelanda Quebec barato 5 59 più eh 59 più QSL eh sì siamo molto vicini sono qua dalla Cisa sono qua sopra un tremolo e quindi se c'è lì in zona di Parma e via siamo abbastanza vicini arrivi fortissimo complimenti Siku Sota Siku Sota Siku Sota Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Siku Sota Francia 5 Papa Ianchi Italia PAPA IANCH Italia over Francia 5 PAPA IANCHI Italia 59 Roger Roger Frances 5 PAPA IANCH Italia Francia 5 PAPA IANCHI Italia 59 anche per te referenza sota Italia Ecoromeo 313 313 QSL Sì grazie grazie Ecoradius 313 grazie 73 Ciao grazie e buona domenica ciao Allora Italia Uniform 2 Italia Eco Eco corretto? Roger ti ringrazio barrato 3 ti passo la referenza Italia Ecoromeo 313 QSL Oh buongiorno Eco Alfa 2 Delta Tango Eco Alfa 2 Delta Tango 55 55 QSL Manuel Roger Italia Zulu Zero Alfa Radio Lima 59 QSL Buona domenica Grazie e buona domenica e grazie per la referenza dei teatri ciao Allora India Uniform 1 QEBEC QEBEC Tango Complimenti per portare avanti un col così impegnativo 5-9 per il log QSL Ok QSL 5-9 per il log QSL Allora Roger IZ8 Delta Francia Oscar QSL Roger ti ringrazio Italia Zulu 8 Delta Francia Oscar 5-7-5-8 Grazie Grazie Le caramelle Cicu Sota Cicu Sota Cicu Sota Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Cicu Sota Di Z5 Charlie Papachilo buongiorno Oh buongiorno Italia Zulu 5 Charlie Papachilo dalla zona di Pontremoli 59 più più QSL 5-9 più per te buona domenica Alessandro grazie Ciao 73 Allora Hotel Chilo Eco QRP avanti Di Italia Zulanda 1 Hotel Chilo Eco QRP in cui il vano d'orba il 59 più 20 Roger Italia Zulanda 1 Hotel Chilo Eco 5-9 più reali e 59 più reali Stazione QRP per QRP molto bene buona domenica ciao Che ho visto in QRP non ho resistito ad andare in QRP anch'io Ciao 73 ancora Hotel Bravo 9 Eco Florida Juliet Alessandro Buongiorno Hotel Bravo 9 Eco Florida Juliet 5-9 più QSL Perfetto buongiorno grazie per la referenza 659 buona attività buona domenica Buona domenica anche a te referenza Italia Eco Romeo 313 la ripeto così per sicurezza Ciao 73 Grazie di tutto a presto Italia Zulanda 1 Tango November America Italia Zulanda 1 Tango November America 59 QSL QSL ti ascolto molto bene 59 segnale per te E metti anche la sezione Quebec 1 Charlie Quebec portatile Allora mi hai detto Italia Quebec 1 Charlie Quebec portatile QSL 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 buona domenica ciao buona attività Ciao 73 buona domenica Italia Norvegia 3 November Juliet Bravo Perfetto Italia Norvember 3 November Juliet Bravo 59 QSL Anche per te 59 73 buona domenica ciao Ciao 73 Se non fosse faticoso mi porterei Arca puttana Uno sgabello CQ Sota CQ Sota CQ Sota Italia Zulanda 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulanda 4 Victor Quebec Sierra CQ Sota CQ Sota India November 3 India Juliet Lima QSL 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 Italia Italia Zulanda 599 India Uniform 4 Foxtrot Lima Papa Barra 4 Roger India Uniform 4 Foxtrot Lima Papa Barra 4 5-9 QSL 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 5-8 circa C'è un po' di QSB ma tutto molto chiaro Mi confermi la referenza Monte Maggiorasca Emilia Romagna 313 Roger Roger Italia Eco Romeo 313 Monte Maggiorasca 1800 metri di quota spaccati QSL QSL buon divertimento e buona discesa Una prossima occasione grazie ciao Ciao 73 Stranamente non c'è nessuno in vetta Non ho trovato nessuno sui sentieri Tutti via Ciao grazie Z1 Giuliette Chilo Hotel Roger Italia Zulu 1 Giuliette Chilo Hotel 5-9 QSL Sì QSL tutto confermato 5-8 parte 5-8 In provincia di Torino In provincia di Torino QTH Torre Pellice Grazie per avere la cimassata Buona giornata Buon divertimento Ciao Ciao 73 Buona domenica Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Magazine RWS Publiche radiofoniche Trasmesse sui 9610 KHz Delle onde corte Con programmi su attualità Cultura e salute La riflessione biblica Ora in onda, Spazio Obiettivo DX, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio, Roberto Vacca. Buon ascolto. Domenica 3 settembre. Un buongiorno, una buona domenica a tutti noi amici d'ascolto. E naturalmente un buongiorno, un ringraziamento subito a Graziano Braga. Ben trovato Graziano. Ciao Roberto, buongiorno a te, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Devo dire che abbiamo ricevuto diversi rapporti di ascolto, quindi forse menzioneremo solamente di noi. Delle persone che ci hanno mandato questi rapporti, però veramente un grazie individuale a ciascuno di voi. Una testimonianza degli interessi con cui ti seguite. Prima di farlo, però forse, Graziano, vuoi dire qualche cosa? Credo che ci siano anche degli eventi importanti relativamente a questa domenica, vero? Sì, certo. Oggi domenica 3 settembre e ieri sabato 2 è in corso la fiera, una fiera abbastanza importante del mondo.